C'è una voce fuori dal coro che dice no all'aeroporto Costa D'Amalfi di Salerno. Non c'è solo chi è a favore del decollo definitivo dell'infrastruttura come il gruppo di imprenditori salernitani che di recente, al fine di accelerare il percorso definitivo per l'approvazione dei lavori utili all'allungamento della pista, ha sottoscritto un'accorata petizione per non perdere il finanziamento di 40 milioni di euro. C'è anche chi, come l'insieme dei cittadini che risiede nei comuni interessati dall'impatto ambientale, accusa lo stesso gruppo di imprenditori e politici che stanno sostenendo l'ampliamento dello scalo di non essere informati o non interessati all'ambiente e alla salute dei cittadini e alle conseguenze della costruzione dell'aeroporto. Tra di loro c'è il medico oncologo Vincenzo Petrosino che esprime preoccupazione facendo sostenere le sue perplessità anche dal rapporto ambientale sull'aviazione europea del 2019. In una dettagliata relazione inviata alla redazione di tv oggi il medico fa chiaro riferimento agli studi effettuati con il suo gruppo e suffragati dall'European Union Aviation Safety Agency che ha scritto chiaramente che l'esposizione a lungo termine al rumore provoca numerosi problemi di salute e ha stabilito che il disturbo riportato dai soggetti esposti ad un determinato livello di rumore risultato superiore a quello causato da altri mezzi di trasporto. Quello che sta accadendo a Ponte Cagnano è un fatto gravissimo non solo il livello di percezione del pericolo non è giunto alla popolazione ma si è evitato di far comprendere scrive Petrosino quanto grande fosse l'opera. In realtà si tratta di espropriare 54 ettari di terreno agricolo con case e attività deviare due torrenti e costruire opere che andranno a modificare notevolmente tutta la zona. Per dare un'idea si tratta di opere da costruire su un'estensione pari a 60 campi di calcio di serie A. Non mancano poi riferimenti ad altre importanti battaglie ambientali combattute sul territorio salernitano. Si sta dimenticando che non si può andare contro una fonderia pisano per non inquinare Salerno, contro un impianto a biomasse a Pestum per non inquinare Albanella e poi schierarsi a favore dell'aeroporto e inquinare la Piana del Sele. Chiaro dunque riferimento proprio alla recente iniziativa degli imprenditori salernitani ma non manca una stoccata anche al presidente della regione Campania De Luca. Le sue minacce al ministro Toninelli di fare una manifestazione a Roma con i sindaci se non si mette il timbro per fare l'opera, aggiunge Petrosino, è inopportuna perché i sindaci devono salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini e non fare le sfilate per costruire opere che poi diventano come l'ilva di Taranto. Nel frattempo il gruppo di cittadini che si oppone all'aeroporto Costa d'Amalfi ricorda di aver impugnato al Tar il decreto di compatibilità urbanistica e che le parti si sono costituite. Se il decreto venisse annullato diventerebbero inutili i cortei e le suppliche.